musica 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 Grazie. 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 Ci avete rotto il cazzo. Ci avete rotto il cazzo. Tiraci. Guarda. Un rigore. Albitro dai. Un rigore ci può dare. Un rigore ci può dare. Un rigore ci può dare. Anche il portiere in the box. Anche il portiere in the box. Cosa è questo schema? Un rigore. 2-0. Serie B più vicino. Serie B più vicino. Serie B. Serie B. Una. Ok. Ok ragazzi siamo qua. Arena di Verona. Plena grande. Grande grande grande. Centro grande grande. Insomma molto molto bello. Molto Siamo in Verona ragazzi, 2-0 per il Chievo Tutta partita ma piccassi Meno male ci vediamo il cameraman E niente, si pompe la città e poi si torna E qui un'altra piazza E ci diamo il trocio E niente, Verona secondo me spacca Verona grande città, molto e ci ritornerò Merita, grande Veneto ragazzi, grande Veneto Molto bella Che spettacolo qua Sono tutte scritte, guarda Sì Vente godi e ora se la godi Bella Siamo tornati a casa, 2-0 Siamo tornati a casa